Eccoci qua cari telespettatori in diretta con Nicola Mazzonetto, direttore Conf Servizi Veneto, grazie ad essere qui con noi, con il quale affrontiamo la tematica che sollecitata anche da molti di voi è abbastanza urgente, sia da parte di lavoratori del settore che anche da parte di fruitori dei servizi, il servizio pubblico locale, il trasporto pubblico locale. Per fare un po' di chiarezza, per fare il punto della situazione, lo facciamo periodicamente un po' per dare un aggiornamento e poi dall'altro di chi lavora, che forse ha dei problemi effettivamente, ci sono dei disservizi, delle questioni. C'è un nuovo sistema che è intervenuto a Padova, per esempio, di bus Italia, Veneto, che cosa comporta? Adesso a Padova ci sono delle problematiche di trasporto pubblico, le linee che non servono più tutti quanti alle zone, degli orari che non sono piaciuti subito agli utenti e si sta cercando di correggerli. Ci sono stati dei tagli che alcuni hanno ravvisato, ma insomma un po' di cambiamenti. Cerchiamo di capire qual è la situazione, anche la situazione finanziaria di Conf Servizi che raduna poi tra l'altro tutte queste aziende e dare anche la risposta ad alcuni che dicono ma perché alla fine non si fa un'unica grande azienda, non si cerca di accorpare tutto con un unico biglietto, tra virgolette, metropolitano, regionale, che semplifichi la vita agli utenti, ai turisti e che ci renda un po' europei, insomma. Allora vediamo, sono tante le questioni, tante anche le problematiche, ma vediamo un po' di affrontarle insieme. Sì, la situazione che si sta venendo a verificare nella città di Padova in modo particolare è il frutto, la conseguenza di una fusione che c'è stata a Padova con APS Holding e FS Bus Italia. Di fatto Padova ha quasi perso la propria azienda, ha il 45% del capitale sociale, però ormai è un'azienda del gruppo Ferrovie dello Stato. Perché questo? Nell'ambito della fusione della societaria, giusto appunto per cercare di far sì che ci sia a livello regionale sempre più una dimensione aziendale grossa, importante, è in atto una serie di fusioni a Padova. C'è stata l'ultima in ordine di tempo con l'APS Holding e FS Bus Italia. FS Bus Italia che qui in Veneto ha già tutta quanta la provincia di Rovigo, per esempio. E quindi in realtà ci sono due province che hanno un'unica azienda. Quindi Padova e Rovigo sono gestite per quanto riguarda il trasporto pubblico locale delle persone, sia urbano che extraurbano, da un'unica azienda, la Bus Italia delle Ferrovie dello Stato. E quindi non è nuova? No, Bus Italia non è una società nuova, è una società che opera a livello nazionale, è molto presente in Toscana, è molto presente in Puglia, ma comunque è presente su tutto lo stivale italiano. E perché ha dovuto soppiantare? Cerchiamo di spiegare questo passaggio, questa entrata. Allora, a livello regionale le aziende pubbliche si stanno muovendo in questa maniera. Nella provincia di Treviso le aziende che c'erano, abbiamo ormai un'unica azienda, è la MOM, è l'unica azienda che ha incorporato l'azienda comunale e le aziende provinciali che c'erano sul territorio. E anche cinque aziende private che operavano nel settore del trasporto pubblico locale. E quindi nella provincia di Treviso, in tutto, urbano ed extraurbano, ha un'unica azienda. Unica azienda anche nel territorio della provincia di Verona. L'azienda del trasporto urbano e l'azienda del trasporto extraurbano è un'unica azienda, è la PT, è una azienda sola. Quindi due province, abbiamo due singole aziende. In ordine del tempo, Padova con la fusione, che poi è l'ultima, proprio tra la fine dell'anno scorso e si è perfezionata ai primi di quest'anno, con l'ex APS Holding di Padova e FS Bus Italia. FS Bus Italia, che era già presente nel territorio regionale, in quanto aveva il trasporto urbano ed extraurbano della provincia di Rovigo, città e provincia di Rovigo. E quindi, in questo momento, abbiamo la prima realtà in cui due province hanno un'unica azienda. Rimane il Veneziano, dove c'è la CTV, che ha, oltre il trasporto su gomma, anche quello sulla navigazione, e la TVO di San Donà di Piave. Sono due aziende in una provincia veneziana molto, molto lunga, perché la provincia è un territorio un po' particolare. Quindi, sostanzialmente, abbiamo poche realtà aziendali. Un po' alla volta, magari, si arriverà ad avere anche un'azienda unica regionale. Di certo è che, comunque, le due province, Padova e Rovigo, hanno già un'unica azienda. Quindi, siamo già meno del numero delle province. Che cosa è cambiata a livello di servizio offerto e di personale, quindi, situazione interna? È inevitabile che in questi processi di fusione, incorporazioni, a seconda del modello che poi viene scelto nell'ambito dell'aggregazione, ci sono dei riassetti di carattere organizzativo, quindi, da parte sia del personale che, inevitabilmente, anche dei servizi. Perché o stiamo parlando di un'azienda nuova o comunque di un'azienda un po' più grossa che incorpora qualcuno di più piccolo e quindi importa il suo modello organizzativo e gestionale. Ritornando sul discorso di Padova, sul problema che ci sono di Padova, probabilmente il sistema organizzativo di Bus Italia non è quello corrispondente a come erano abituati i cittadini di Padova a avere il servizio gestito in loco e quindi i disagi ci sono, però è inevitabile che ci deve essere una taratura sulla realtà di questa nuova azienda. Perché l'azienda non conosce il territorio, non conosce. Ci sembra che, almeno queste sono le osservazioni che ci sono pervenute da parte di telespettatori, utenti, eccetera, che si è fatta da chi proprio non vive la realtà, gli orari, i movimenti interni della città, le esigenze, che poi sono esigenze di due fasce sostanzialmente, sono gli studenti, una grossa fascia, e poi gli anziani, persone che non hanno possibilità magari di guidare, non hanno l'età per farlo. Quindi fasce anche un po' deboli, tra virgolette. Allora, FS Bus Italia è una grande azienda con un'esperienza solida. Certo, nel territorio di Padova, è chiaro, non lo conosceva. Conosceva, per quanto riguarda il Veneto, conosceva Rovigo. Rovigo è la sua provincia. Bisogna considerare le dimensioni. La città di Rovigo fa 50 mila abitanti, più o meno, poco più. La città di Padova ne fa 250, però la movimentazione sulla città di Padova è di 500 mila persone. Quindi sono dimensioni diverse. Credo che in questo momento l'azienda debba trovare i giusti assetti. Non perché non sia capace questa azienda di gestire una città importante con volumi superiori. Ci sono, come tutte le cose, dei collaudi. Alla fine, chi paga lo scotto di servizio, di questi problemi, è chiaro che sono i cittadini. Io, dalle notizie che ho, è che si stanno cercando di acquisire delle informazioni dai cittadini e tamponare e risolvere il problema nei tempi più brevi. Anche perché gli studenti devono arrivare in orario a scuola e chi lavora deve arrivare a strisciare il cartellino in tempo utile. Sicuramente la cosa è venuta fuori nel periodo scolastico perché si sa che ci sono più linee, ci sono servizi aggiuntivi speciali, specifici per questo periodo dell'anno scolastico. È il primo anno scolastico che questa azienda affronta e di conseguenza ha bisogno di avere delle tarature. Stiamo parlando di alcune giornate, le scuole, per carità, con tutto il rispetto delle scuole che devono essere gli orari, eccetera, eccetera, però siamo all'inizio dell'anno scolastico. I disagi ci sono, ma so anche che sono in fase di risoluzione e credo che in un brevissimo tempo l'azienda saprà dare le risposte adeguate ai cittadini. Era previsto anche un riassetto dal punto di vista economico, cioè una riorganizzazione per aver meno spese, oppure no, in base a quelle che erano anche le direttive e i soldi di cui potevate disporre? Le aziende venete stanno facendo e continuano a fare enormi economie a livello proprio di gestione, cercando di dare dei servizi di alta qualità, perché le cronache locali, è chiaro, parlano delle aziende locali, però se andiamo nella dimensione nazionale, le cronache nazionali non riportano i disagi, seppur sempre da rispettare e da risolvere, quelli veneti o nel microscopico paese di Padova rispetto al sistema Italia. Quando si parla di disagi nei trasporti, cioè si parla della capitale, di Roma, si parla di qualche altra regione, magari del centro-sud Italia, ma non del Veneto e non di Padova, perché stiamo parlando di realtà in cui vengono gestite le aziende, vengono gestite bene, nel senso che qui ho avuto l'occasione di dirlo precedente, ma lo voglio ripetere, perché è giusto che si sappia come stanno le cose. Qui nel Veneto il biglietto recupera oltre il 45% dei costi aziendali, a livello nazionale la media è del 20%, quindi 25% in più della media nazionale. La norma che regola il settore del trasporto pubblico prevede che le aziende debbano con il biglietto recuperare il 25%. Quindi noi siamo ben abbondantemente. Quindi siamo al 20% sopra quanto stabilito dalla legge. Quindi non accetto che si ponga e si punti il fucile contro le nostre aziende del trasporto pubblico, che stanno facendo anche il lavoro di qualche altro che magari il lavoro lo fa così. Adesso diciamo che... Perché poi a livello stiamo parlando di milioni di euro che girano, che purtroppo, anche questo è un fattore non marginale, nel Veneto le aziende recuperano tanto con i loro biglietti, tagliano anche dei costi aziendali, ok? Di conseguenza, la conseguenza è che dovrebbe essere premiata la regione Veneto a livello nazionale e quindi ricevere più finanziamenti per sostenere questo settore. La conseguenza è che ogni anno se ne va qualche decina di milioni di euro, stiamo parlando di decine di milioni di euro che vengono sottratte al Veneto ad aziende efficienti, a un sistema di trasporto efficiente a favore di aziende di regioni in cui la loro inefficienza è palese, è lampante, perché ci sono aziende dove si recupera, ma a malapena, il 10%, quando qui in Veneto si recupera il 43-45%. C'è una differenza pazzesca. Ma infatti appunto si sta puntando l'attenzione adesso su Roma, perché Roma è un po' Roma capitale, poi dovrebbero esserci anche 20 che la vedono coinvolta, però il trasporto pubblico è uno dei tanti aspetti dell'Eteri, oltre le immondizie e quant'altro, non entriamo nel merito. E si dice ma come mai, come è possibile che Roma capitale non riesca a gestire un trasporto pubblico per quanto complesso possa essere e che sia in un deficit spaventoso, se non sbaglio? Dove i soldi dovrebbero tirare fuori voi naturalmente? Roma ha una sua peculiarità, non è soltanto la città Roma, perché Roma purtroppo è un imbuto di tante attività, quindi di tanti flussi. è una città, ecco, forse qui in Veneto la potremmo paragonare al Venezia, ecco, tanto per la sua specificità. Però se la portiamo in Europa, a grandi metropoli, non è neanche una scorza di qualsiasi, non è Parigi, non è Londra, non è Berlino, non è assolutamente… I problemi a Roma non si possono nascondere, ci sono, anzi, se c'è un problema a Roma è un problema che ovviamente prende il sopravvento su tante altre e l'immagine è un'immagine neanche più locale, neanche più nazionale, perché abbiamo visto, poi si puntano negli occhi i riflettori, anche la stampa e i media internazionali, perché è una città internazionale Roma. È una città difficile da gestire, i servizi pure, credo che qualche intervento a livello organizzativo debba essere fatto, perché i numeri non gli danno ragione, i risultati non gli danno ragione. E quindi credo che degli interventi forti andrebbero fatti in queste aziende a Roma, come in qualsiasi altra azienda che non è alla pari di aziende come il Veneto o come anche la vicina Lombardia, perché anche nella vicina Lombardia abbiamo dei servizi che funzionano e abbiamo anche in Lombardia dei recuperi molto importanti sul biglietto. Io credo che con i flussi di popolazione, che a parte i cittadini romani, ma insomma del turismo che c'è su Roma, l'azienda dei trasporti dovrebbe essere un'azienda che funziona bene, dovrebbe funzionare bene e avere anche un buon recupero dal biglietto. Voglio dire, a Venezia il biglietto costa, è un biglietto che costa caro, ma i turisti lo pagano. Certo, ma adesso di Venezia dobbiamo parlare perché abbiamo avuto anche lì diverse istanze, quindi dedichiamo il capitolo a Venezia con un po' più di calma e tempo, pubblicità a pochi secondi, poi ritorniamo con voi e con Nicola Mazzonetto.